Sì. 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 Potevate dirlo subito, che cercavate Don Enrico? Sì. 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 La volete provare? Sì. Come se la posso? No. Ma come no? Provatela! Sentirete che differenza! Il taglio di saia è creato con i metodi tradizionali sartoriali. Wow, un guanto! Palla morbida e giacca avvitata. Aspettate che non è finita ancora. Eh già, arrivo ruffiano. Perché qui si doveva tipo ruffiano. Ruffiano dello stile. Ah, dello stile. Ve la possiamo dare per un'ora? Signori, se ne hanno lasciato un'ora e mezza lo farò diventare un gentri d'anni inglese. Anzi, napoletano. Un'ora e mezza? Un'ora e mezza. Voi siete pazzi proprio. Signori, commissà, la giacca ha bisogno dello stile per fissare linea e forma. Va bene, come se avessimo fatta. Vabbè, commissà è un po' di stile. Quanto la giacca è perfetta. Veramente, per essere perfetta ha bisogno della prova della funicolare. Ci mancava solo la funicolare a noi. Commissà.